Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Abandon Ship Sono andato come promesso nella parte superiore ma l'ho esplorata tutta E devo dire che ci torneremo in un altro momento Uno perché non c'è nessun posto dove ripararsi Ci sono pochi eventi che si possono fare Non siamo messi benissimo né come scaffo né come ciurma E in più mi ha accolto una musica tutta mega trionfante, pomposa, lugubre Per cui ho detto, forse sei il centro dell'area del culto, magari un'altra volta Ci vediamo quando trovo qualcosa di più sensato Visto che non possiamo, cioè che tanto dobbiamo tornare indietro per forza Direi che possiamo andare a provare magari uno di questi due eventi Prima iniziamo dal nido degli Alifron e poi dall'altro Tanto comunque siamo obbligati a tornare nel porto di prima A ripararci Ok Ok c'è davanti una nave del culto Quindi dobbiamo prima distruggere loro e poi possiamo entrare a distruggere eventualmente le uova Sono messi parecchio bene, porca miseria Speravo di no Allora, a parte che devo salvare la gente perché Qua se no sono tutti incasinati No, ti metti in zona più centrale Allora, tu spara così Poi qua Poi Qua Tu Qua Allora avremmo potuto usare anche l'asset bomb prima, effettivamente non ci ho pensato Aio Aio Riparino Bravo No, signor riparino Di nuovo qua Ci facciamo? Sì Stiamo prendendo abbastanza Danno ma No, vai Ok Ok al pelo Cavolo, cavolo, cavolo Allifron No, sono tutti e due su di là Ok allora I primi tre Su questo più lontano E altri due su questo più vicino Ah, quello è morto già Quindi Aspetta Andate Tutti via Perché quello esplode Ma quello cosa fa? Rimane là Ma sei scemo Vabbè, meglio così Allora Adesso Un, due Uno Due E tu qua Ne dico tu cura Nel dubbio Poi devi salire di livello Neanche tu non sei espertissimo Nel dubbio Ok è andata Abbiamo praticamente perso La nostra nave Però nel 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 mente Non è che perché abbiamo i cannonieri Non pronti No, questo è a posto Quell'altro là è un po' uno scarsino Va bene Va bene Ok abbiamo distrutto tutte le uova senza bisogno neanche di scendere la nave Scusa Qua Che qua sappiamo che c'è un porto che ci può accogliere Ci ripara qua? O è quella che è pagamento? No Non c'è uno di quei riparini gratuiti? No Allora Vabbè andiamo così standard Ce n'è tra poco Purtroppo Neanche qua Nessuna cittadina Allora Ho visto Più che altro Un porto Qua sembra abbandonato Voglio vedere un po' quale è l'evento Tanto saremmo costretti comunque ad andarcene Prima o poi Molta gente desidera Molti capitani desidererebbero avere una nave costruita da Aborgrad Solo qui sono state fatte le migliori navi con il migliore legname La maggior parte è presa dall'isola stessa Ora tutti i magazzini sono abbandonati E i porti sono vuoti Il culto ha iniziato a prendere le aree circostanti Per cui i mastri carpentieri se ne sono andati E non sono ancora tornati Ok Più che altro Quello che notavo prima è che Ah no Ok niente Possiamo andare qua su O dove siamo ora Perché questa però mi sa che è l'unico modo per uscire Non so se questa è una zona così importante Forse esplorare questo sarebbe stato più proficuo Che non il giro che stiamo facendo qua ora Proviamo a vedere La gente Qua da salvare Eccetera eccetera Visto che ci sono comunque tanti eventi Che dovrebbero avere un esito più o meno neutrale Avevo appena detto che dovevano essere tranquilli No? Eccoci Infatti Primo evento Aiutiamo Diamo 15 da mangiare E si rivoltano Contro di noi Perché vogliono mangiare tutto Quello che abbiamo Non mi sembra una vecchia però Che dovrebbe imprensirirci troppo Probabilmente ci faremo semplicemente un po' di esperienza Nel mentre Uè Ma Dobbiamo stare là Salviamo la gente così Dai 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 che ce la facciamo Dovremmo essere A buon punto Continua a far cadere questo tizio Quello stai imparando Ok è andata C'erano un po' di soldini Dai Almeno per Rifarci un po' Eravamo tipo a 1200 prima Adesso vediamo Dai non stacco Non metto di nuovo in pausa Perché continuo a mettere in pausa qua Eeeh Non c'è un Kaiser Riparazioni Andiamo alle riparazioni No andiamo dall'uomo in mare Alla giù in fondo Dai dall'ultimo Angolo Alla che volta Lo troviamo morto Non credo che Le ultime parole famose Non credo che Invece Dai 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 Sono curioso ormai di salire su Se riusciamo a fare un po' di eventi neutri E salire su Sarebbe una buona idea Allora questo non ci interessa Vabbè però non vorrei Sprecarmelo così Se poi ci fosse necessario Ripararci Eeeh Andiamo sotto con la campana Dai Ok Ho trovato un'arma Va bene Cosa andiamo a fare? Eeeh L'evento là direi Se proprio dobbiamo Andiamo a fare l'evento là Dovremmo poterci riparare Un po' tra questo E quella nave sotto Che Ripara a pagamento Vero che costa di più Ripararsi là però E forse non puoi ripararti tutto Forse solo se sei tanto danneggiato Puoi riparare un po' Eeeh Oddio Ci sono tante persone morte Impalate dal muro Niente Bruciamo tutto Eeeh Distruggiamo le uova Oh Cos'è successo? Un'intrusione Perché? Perché ti riballi così? Non ho capito Eeeh Ritornerai da noi Noi aspetteremo Ah ok Adesso sappiamo Dove sono le navi Eeeh Ok Possiamo trovare queste navi Dei comandanti Del culto Nella mappa Di esplorazione Hanno La red target outline Vediamo la World map Ah Se ne prendiamo Una intatta Su de roba Dove sono? Scusa Non le vedo Dove sono? Ma Eeeh Boh Non so Non so dire Non so dire Eeeh Niente Abbiamo tre eventi neutri da fare Non abbiamo preso Del danno da combattimento Per cui cosa facciamo? Ah Uh Ce n'è una qua Ce n'è una qua Proviamo? Secondo me è troppo impegnativa Ce la sentiamo? Proviamoci dai Oddio Moriremo malissimo Ah Prendila intatta Non la prenderemo mai intatta No Ci moriamo tutti Allora Io posso provare a Che musica dell'anno si ha No Vabbè aspetta Tu Sì no dai Tu spara così Vediamo Aia Mareo Ci hanno sfasciato tutto Già Quanti sono? Sei più Alifron? Mi sta di sì Eeeh Allora Tu Ripara la roba Tu Occupati del cannone Tu Vai spegnere Gli incendi No Via 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 Dove è andato il Tizio Ah eccolo Il tizio che ripara Mareo 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 Su questo Su questo Allora se tu Spegni No tutti via di qua Allora Tu vai a riparare questo E voi Andate via Ok tu qua Tu vai a guarire lui Please Tanto quello non dovrebbe esplodere Allora tu vai qua Tu Vai qua Ti ho detto Allora farei che Ci avviciniamo Dov'è il medico E' qua Ok Andiamo a spuntere Come prima Tutti qua No Via Perché questi Non stanno Combattendo Tutti Combattete Tipo Uno che sta Crepando Questo Battene Ok Non ci credo Ce l'abbiamo fatta Abbiamo solo due Debilitati Che hanno preso Dei tratti negativi Ma Nulla di grave Ok abbiamo visto Un'area Su al nord Quindi dobbiamo andare Qua Sopra quell'altro punto Di prima No Però prima Tornerei qua Continuo a premere Chiudi No vabbè A parte che non abbiamo preso così tanto danno Ripariamoci un po' Poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa Allora Farei due eventi Giusto per Vedere un po' Allora questo Ok la ignoriamo Ottimo Così ci manca un solo evento Che potrebbe benissimo essere quello No grazie E È a posto Per cui potremmo andare su Ci andiamo È probabilmente Che ci sia un porto su Vediamo comunque Il cibo da sprecare Ce l'abbiamo Ma ricavata Se non c'è un porto Possiamo anche tornare giù sotto È perché avendo la ciurma così scarsa E due debilitati Tra l'altro Uno fa meno danno E l'altro Continua a cadere Allora Proviamo a vedere un attimo Che cosa c'è qua sopra Perché andare là Mi sembra davvero Molto 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 Arrischiato Qua mi sa che andiamo a cercare Altri guai seri comunque C'è una musicona dell'ansia Porca miseria E Non ci sono dei porti 20 di pesce Così almeno Al massimo Non ci abbiamo sprecato troppo A venire qua Dovamo una piccola esplorata Ci vediamo tra poco Se non altro Ho trovato un porto C'è un evento cultista Che non andrò ad affrontare C'è un forte cultista Che non si può sconfiggere Credo No si si può sconfiggere Ma Per ora Me ne fregherò E allora Ho esplorato tutto Quindi vabbè Ripariamo leggermente qui Andiamo da Qui Prima dall'explorer guild Ok Abbiamo esplorato Effettivamente tutto Dall'apotechieri In cui andiamo a toglierci Questi Ehm No perché dovrei rimuovere questo Vabbè Non è entrato negativo Ok Ehm 827 Ci rimangono comunque Un pochettino di soldi Ehm Ma non andremo a sistemare Niente di che Qua mi sa che Anti-boarding spikes Non c'è nulla di Di particolarmente esaltante Quindi Possiamo concludere qua Quest'episodio Io vi auguro Una buona giornata E ciao a tutti Grazie a tutti Tu Grazie a tutti Grazie a tutti.